La rassegna stampa è stata offerta da I Sapori del Vallo, l'arte di fare la pasta. www.isaporidelvallo.it Buongiorno, ben ritrovati in un nuovo appuntamento con la rassegna stampa di Uno TV di questo lunedì 16 febbraio e andiamo a leggere subito le prime pagine dei quotidiani regionali a partire come di consueto dal mattino, un mattino che apre con le parole dell'Isis alle porte, l'ONU si muove, Alfano con il PD al governo ma le regionali sono un'altra gara, trattativa aperta con Caldoro, le interviste del ministro dell'interno, sconto salatissimo se la lotta al califato non diventa una priorità. Svegliamoci, c'è una nuova guerra, il commento di Franco Cardini. Poi altri titoli, il fronte africano, Libia e italiani in fuga, minacce terrorista, siamo a sud di Roma, il fronte europeo, assalto alla sinacologa di Copenhagen, preso il killer arabo-danese. Poi lo sport, lo stop del Napoli, processo a Raffaello, non è un portiere da grande squadra. Andiamo a centropagina, terra dei fuochi, ecco chi ha lucrato l'inchiesta del mattino, all'agricoltura calpana, l'allarmismo è costato 100 milioni di euro, multinazionali e industrie del nord hanno occupato il mercato dei prodotti tipici. Infine in Sanremo i vincitori del festival, noi come Bocelli e Vasco, affari d'oro all'estero e critiche il volo che divide. Infine in taglio basso la politica alle rendite di posizione contro le riforme, la sfida bipartisan a Renzi, il gioco interno ai partiti. Poi la scuola caccia i furbetti della legge 104, giro di vita del governo sui permessi ai professori, c'è chi ne approfitta. Questa è la prima pagina del mattino, cerchiamo di andare avanti e apriamo. Invece c'è la pagina dedicata all'edizione di Salerno con un'apertura dedicata a Ravello. Un balletto assurdo l'intervento del presidente della provincia Canfora, noi responsabili da Caldolo, atti di prevaricazione e scontro totale dopo le dimissioni del nuovo presidente della fondazione. Intanto per quanto riguarda le primarie si entra nel vivo della corsa, rasci primari, caccia i deluchiani, sfida Cozzolino, Enzo ritirati. Poi andiamo a centropagine, leggiamo invece il titolo di quello che è accaduto ad Auletta, muore mentre va al mercato, ennesima domenica di sangue nel vallo di Diano, ambulante senza scampo, schianto tra Buccino e Auletta. La vittima aveva 85 anni, forse stroncato da un malore. Intanto si va verso il voto, l'ex sindaco Verro De Luca va ad Anglis per siglare l'intesa con Mauri. Infine andiamo in taglio basso e leggiamo, curiosità, il battesimo di Charlize nell'Eden di Positano. Questa è la prima pagina del mattino dedicato a Salerno, proseguiamo e apriamo invece la prima pagina della città di Salerno che apre come di consueto con le vicende sulle primarie, De Luca si faccia da parte, primarie il pressing di Cozzolino, 48 ore decisive. Intanto arriva la minaccia dell'Issi, gli italiani via dalla Libia, 100 persone evacuate, torna a casa anche lo staff dell'ambasciata di Tripoli. Sempre restando in tema politica lo scontro politico tra PD e Forza Italia, duello sulle riforme, mentre corsi di recupero, scuole al verde, prof pensionati, tornano in aula ed è polemica. Intanto arriva sulla vicenda delle fonderie sul trasferimento, decidono i giudici e fissata per giovedì l'udienza al Tar. Infine leggiamo anche lo sport del mattino di Spalla, i tifosi Granata sono con l'Otito, inventato Negro a rischio. Lui è Pestrin e suoi inanzia il tecnico Menichini in vista della prossima partita di campionato. Leggiamo anche in Serie D, riscatto Cavese, l'Agropoli vince in 9, infine Commercio a Salerno, battaglia contro gli abusivi ambulanti in municipio. E poi le elezioni del nuovo Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Lago Negro, l'Avvocato, la vittoria va a Cappelli, spodestato Marcone che non riesce ad entrare in consiglio. E infine la cronaca, la voletta mercatale di Buccino muore in incidente, mentre a Serramezzana, grave bimbo all'estero, padre accusa il Ministero. Andiamo avanti, proseguiamo con la prima pagina di cronache del Salernitano, che titola, parlando della vicenda regionale, come uno scherzo di carnevale. Il PD completamente nel caos, Casillo vuole giocarsi la carta della tartaglione senza primarie, Cozzolino prova a vincere, a convincere, Vincenzo De Luca faccia un passo indietro senza strappi, mentre oggi Alfano incontra Caldora a Napoli e restano in sospeso le votazioni di domenica 24. intanto Monte Corvino, minacce brigadiste a Giannattasio dai giovani di Forza Italia, Parco di Via L'Aspro chiuso per degrado, Salerno cedono gli alberi su strutture giostre già danneggiate dall'incure. Poi c'è la pagina sportiva, la sottolineiamo in verde, Lotito diserta a Udine, stamane processo in Lega, ancora polemiche contro il padrone, mentre oggi Palazzi avvia le indagini, interroga Tijodice e il designatore. Infine sempre sullo sport, Cavese, Sarnese e Agropoli, ma che bella domenica, Battipadiese in caduta libera, ne prende quattro, male anche la Gelbison. Questa è la prima pagina di cronaca del Salernitano, adesso andiamo avanti, apriamo anche la pagina di Metropolis, Metropolis che apre con il titolo su De Luca. De Luca è un'altra anatra zoppa, verso le primarie del centro-sinistra, stoccata di Cozzolino al sindaco decaduto di Salerno. Inoltre Vincenzo si definisce Maradona, ma la legge Severino gli impedisce di guidare la regione. Andiamo avanti, Scafati, Consiglieri Fandulloni, Aliberti dice tutti a casa. Poi scendiamo in basso, sempre a Pagani, l'amministrazione in aiuto degli inquinini morosi. Anno c'era botte in famiglia per soldi, il PM giudizio immediato, dall'altro lato a Salerno, maxi anticipazione di cassa, chiesti 83 milioni di euro, mentre a Debole ospedale e il sindacato mancano 100 infermieri, è un allarme. Poi abbiamo nella colonna centrale lo sport di Metropolis, Salernitano, lo titolo a rischia grosso, l'affondo del CONI, Agropoli e Cavesi in serie di rilancio, Tonfo della Battipagliese, in eccellenza la Scafate se pareggia il novantesimo, non scelina niente miracoli e in A2, questo è basket, Spinelli all'ultimo respiro, vince la Givova Scafati. Prima di chiudere con la prima parte della rassegna stampa, leggiamo anche le pagine interne, alcune pagine interne dei vari quotidiani per parlare della cronaca che è accaduta e che è verificata soprattutto nella giornata di ieri e apriamo subito cronaca del Salernitano che ci riferisce una notizia che arriva proprio da Polla, una truffa ai danni di diverse persone, soprattutto di anziani, che con degli uomini, appunto con la scusa che il Vescovo a mandarli, truffano appunto queste persone, ci manda il Vescovo, ma è una truffa le indagini degli agenti della polizia locale, volte dare nome a volte irresponsabili, si tratterebbe di una coppia di malfattori, diversi episodi specie ai danni di anziani, bussano alla porta, sono giovani, verso in modo distinto, abbiamo queste cornici per voi, ma del presunto dono di Don Monsignor De Luca, non sa alcunché. Poi Polla, ordinanza di Carnevale, sicuro, l'opposizione attacca ai defusi, mentre ad Atena Lucana, leggiamo, Eternit non solo, c'è l'inchiesta e la minoranza attacca rifiuti speciali, altra discarica a bussia, via il capo dei vigili. Poi andiamo ancora in basso, leggiamo sempre ad Atena l'annuncio del primo cittadino al convegno, sicurezza stradale, presto sulla strada stradale 19 verranno installati gli autovelox educativi, mentre a sala consiglina, che è la mezza scolastica, il sindaco mette in guardia dalle diffamazioni. Infatti è questo il succo della cronaca locale proposta dalla cronaca del Salernitano. Apriamo anche la pagina dedicata alla città di Salerno e leggiamo le due notizie principali del giorno, sono che gli avvocati al voto, spodestato Marcone e Sala, vince la lista guidata da Gerardo Cappelli, 10 consiglieri dell'ordine sull'11, ma l'ex presidente annuncia ricorso. Poi l'altra notizia del giorno è l'incidente dell'Auletta, ma allora alla guida muore 85 anni, il pensionato si stava recando al mercato di Auletta, l'auto è finita contro un muro. Queste sono le notizie del giorno per quanto riguarda la cronaca locale. Abbiamo detto tutto per quanto riguarda la prima parte di questa rassegna stampa, ci vediamo dopo la pubblicità per la seconda parte. seconda parte della rassegna stampa di lunedì 16 febbraio e come ogni lunedì apriamo la pagina sportiva e partendo proprio dalle parole, da quanto scrive il Martino nella sua sezione sport. Leggiamo un Benitez che attacca il Napoli, una caduta da parte della squadra partenopea che stava facendo bene e che poi ha subito questa dura sconfitta dal Palermo. Tre messaggi da Palermo, questo è il punto che scrive Francesco De Luca. Intanto la Roma frena, pareggio e tanti fischi, il colpo, Inter forza 4, Mancini sorride, mentre l'illusione al piccolo Milan non basta destro. Per quanto ritornando sempre al Napoli, Amsic in dubbio per la trasferta di Europa League. Poi c'è lo spazio anche per la Salernitana in volo sulle ali di Negro, prima sul mercato, poi dietro fronte. Michael è decisivo, intanto oggi in l'assemblea il presidente Lotito appoggiato dal padrone della Salernitana, Lega Pro si sfida Macalli e Lotito il caso. Questa è la prima pagina, un Napoli dicevamo che è pareggiato, quindi leggiamo anche la classifica della Serie A rapidamente per capire dove si posiziona la squadra a parte europea, anche alla luce del fatto che ha perso soltanto un punto dalla Roma e uno anche dalla Juventus, entrambe hanno pareggiato, quindi il divario resta lo stesso, ma la Fiorentina si sta avvicinando nella corsa al terzo posto, visto che si trova a meno 4 e ha rubato due punti a Napoli grazie alla vittoria in casa del Sassuolo. Questi i risultati di questo turno di Serie A tra cui spicca anche l'importante vittoria del Chievo contro la Sampdoria per 2-1 un Chievo che poi va a 24 punti. Questa era di fatti la classifica della Serie A, proseguiamo, apriamo invece il capitolo salernitana leggendo l'apertura del sport della città che dice salernitana 2 big a rischio, oggi esami per Nego e Pestrin potrebbero saltare la delicata gara con il Foggia. Intanto il Napoli processa gli azzurri, Raffa e l'Imbirico in Serie A la Roma frenata dal Parma, mentre per quanto riguarda la salernitana i tifosi si schierano con il copatron del club Granata. L'allarme nel G1C per la crisi dei club, oggi c'è l'Assemblea e infine la Paganesi azzurro stellati in crisi, la vittoria manca da più di due mesi. Una salernitana che insieme al Benevento sta facendo camionato a parte, come vediamo anche dalla classifica della girone C di Lega Pro, c'è tanto, molto, 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 molto da dire in questo campionato una salernitana che lo vediamo a meno due proprio dal Benevento in attesa dello scontro diretto, poi la casertana un po' più arretrata a meno nove, c'è anche il Lecce del nuovo tecnico Bollini, mentre in coda ci sono Aversa, Ischia, Regina che anche ieri ha conquistato un buon punto contro la Juve Stabia. Andiamo avanti, lasciamo i campionati professionistici e tuffiamoci invece in quelli direttanti a partire dall'eccellenza campana a girone B, ieri si è giocato in questo weekend un'ennesima giornata del girone di ritorno, la nona, e abbiamo visto che c'era un match importante, quello tra Scafatese e Santagnello, un Santagnello andato in vantaggio di due gol al fine primo tempo, poi ripreso nella ripresa dalla doppietta di Teta per i Canarini, Scafatese che cuore, rimonta il Santagnello negli ultimi cinque minuti, due redditi di Teta regalano il pareggio inesperato ai Canarini, Cesarano elogia il gruppo, una prova di carattere, intanto un successo d'oro per il campagna, il Faiano sconfitto 2-0, Faiano che prende la prima sconfitta di questo 2015, mentre troppi errori per la Nocerina che è Cappalo a Pimonte contro il Gragnano, i rossonelli si arrendono al Gragnano, decisive le amnesie difensive, infine si parla anche della sconfitta del Valdiano, il Valdiano si sveglia troppo tardi ad Ariano, termina 3-2 in favore appunto del Vistariano. adesso la classifica vede sempre il Santagnello in testa con 58 punti, ma una partita in più rispetto al Gragnano che ha 56 potenzialmente potrebbe prendere di nuovamente il Primato non appena appunto il Santagnello riposa, mentre il Valdiano perde il quinto posto e scivola al sesto, grande grazie alla prova della Mariglianese che vince 4-0 contro il Forza e Coraggio Benevento. Andiamo avanti, apriamo anche il capitolo della promozione campana Girone D, una promozione che di fatti sta regalando molte emozioni, una promozione che ha visto il Sassano ieri sconfitto per 1-0 dal Calpazio in casa, lo Svaldo Rossi sta alla consiglia, un Sassano che adesso leggendo anche risultati e classifica si trova a meno in una posizione abbastanza tranquilla e quindi spera e può coltivare la tranquillità per quanto riguarda l'obiettivo della salvezza. Sassano-Calpazio 0-1, vince anche l'Ebolitana, vince anche la Giffonese, una classifica che vede l'Ebolitana, Giffonese e Rocchese, le prime tre, poi c'è la Demeraria, il Sassano lo vediamo a 33 punti, abbastanza tranquillo quando mancano davvero poche settimane alla fine del campionato, manca metà del girone di ritorno, quindi bene o male siamo quasi in addirittura d'arrivo per la squadra del Presidente Ricciardone che la prossima settimana sarà in casa del Real Agropoli, squadra che punta direttamente ai play-off. Andiamo avanti, apriamo anche il capitolo della prima categoria, una prima categoria che ha regalato per quanto riguarda il Giro NG ben tre scontri diretti che hanno disegnato un po' alla graduatoria il Salerno perde per mano del Centro Storico 2-0, l'Atletico per niente perde in casa contro l'Audax 2-1, vince anche il Procoliano contro lo Sporting Corvino e adesso una classifica che si accorcia il Salerno ma a 38, l'Audax 36, l'Atletico per niente a 35, il Centro Storico Salerno 32-30, il Procoliano ad oggi sarebbe fuori dalla lotteria dei play-off lo Sporting Corvino. Nel girone H invece, grande vittoria del Montesano 2-0 sul Canalonga, 5-0 del Marina sulle Raio, una vittoria esterna del Fipe Polla e adesso la classifica, vista anche la sconfitta della Vigo Castellabate in casa del Vesole, dichiara che il Vigo Castellabate è sempre in testa con 38 punti ma accorciano Antessano, Fipe e Montesano che grazie a questo vittorio prendono tre punti importanti per la lotta al primato, quantomeno per conservare un posto buono nella griglia play-off. La prossima settimana tra le partite di maggiore interesse c'è una sfida tra Fipe Vesole, un remake della gara dello scorso anno, valida per la seconda categoria e un palinuro montesano molto molto interessante. Vi ricordo che questa sera all'interno di Sport1TV potremmo vedere anche ieri lights e le interviste realizzate dopo la gara di ieri di sabato tra Canalonga e Montesano che abbiamo ripreso con le nostre telecamere. Prima di concedarci facciamo un piccolo riassunto nel campionato di seconda categoria Gidone N, una seconda categoria Gidone N che ha visto un nuovo cambio di vertice perché il certoso di Padula vincendo in casa dello Sporting Sala Consiglina per 4-0 e approfittando della contemporanea sconfitta del San Vito Sapri in casa del Sant'Artenio si riporta in testa con un solo punto di margine, segue Sapri, poi c'è Rofrano, lo Sporting Sala Consiglina, secondo KO consecutivo invece per il buon abitacolo del Presidente Marchesano. C'è anche un breve trafiletto sulla terza categoria e sulla super sfida che c'è stata tra Real Postiglione e Atletico Montesano, una gara conclusa con un 4-3 a 3, partita spettacolare soprattutto negli ultimi minuti. con di fatti lo Sporting, soprattutto con la seconda categoria, si chiude l'appuntamento con la rassegna stampa di questo lunedì 16 febbraio. Vi ricordo che per tutti gli approfondimenti sportivi e non vi rinvio ai nostri notiziali per il momento è tutto e vi auguro buon proseguimento di giornata.